Tempo d'estate, anche in questo 8 luglio 2021, 10.45 in questo momento, come ogni giorno, cari amici di Padre Pio TV, siamo in diretta per farvi compagnia e per prepararci alla celebrazione eucaristica delle 11.30, che come sempre si celebrerà nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcino, il nostro set in questo tempo d'estate che diventa anche Tempio d'estate. Giocando con le parole abbiamo voluto creare questo ideale collegamento tra il nostro studio in cui parliamo e parleremo come ogni giorno di tante tematiche legate all'attualità, legate al calendario, legate anche alla fede e alla spiritualità e il Tempio d'estate in cui la nostra Anna Maria Salvemini è già pronta. La vedevo fino a pochi istanti fa con il suo ventaglio alla ricerca di un po' di frescura. Noi qui stiamo bene, però credo che Anna Maria stia soffrendo abbastanza il caldo in questa torrida giornata d'estate. Ciao Anna, ben trovata, buongiorno. Ciao Leo, ben trovato a te. È l'unica arma che abbiamo a disposizione d'estate contro il caldo, quindi insomma portatelo sempre dietro, soprattutto alle donne, lo dico. E allora ci ritroviamo qui, prima ovviamente di partecipare alla messa delle 11.30, noi avremo la possibilità di parlare di un bel progetto che portano avanti proprio delle donne e delle associazioni impegnate dei luoghi, qui in particolare del Gargano. I protagonisti sono le biciclette, in particolare i pedali del cuore, così si chiama questa iniziativa. Gireranno il Gargano per farsi prossimi alle donne in difficoltà e alle persone in difficoltà. Non cercano fondi, non chiedono soldi, ma cercano messaggi di speranza e di conforto per chi si ritrova a vivere una vita diversa da quella precedente a causa di incidenti o di malattie. Poi non so se ne parlerai, sicuramente del Santo del Giorno, però voglio ricordare, visto Leonardo che domenica noi non siamo in diretta, magari lo saremo nei prossimi mesi, un santo di domenica prossima che è San Benedetto da Norcia, fondatore dell'Ordine Benedettino e patrono dell'Europa, proprio l'11 in cui si giocherà la finale Inghilterra-Italia. quindi patrono dell'Europa, ci sta bene anche, insomma, affidarci a lui perché è sportivo. Allora, affidiamoci a San Benedetto l'Italia che è terra di santi, ecco come ci hanno insegnato anche a scuola, ecco, davvero offre un ampio ventaglio di possibilità da questo punto di vista. Dunque, aggiungiamo anche San Benedetto da Norcia, ma quest'oggi, in questo 8 luglio, la Chiesa presenta alla nostra riflessione invece altri due santi un po' più addietro con gli anni. Siamo nei primi secoli del cristianesimo, Aquila e Priscilla, una vita insieme, una vita in movimento con lo sguardo fisso in Cristo. La testimonianza di fede dei santi Aquila e Priscilla, potremmo dire, viene corroborata da questo dinamismo che in qualche maniera è stato il protagonista della loro vita perché Aquila e Priscilla hanno condiviso una grande amicizia con un altro grande santo che del dinamismo potremmo dire ha fatto la sua ragione di vita con i suoi viaggi missionari, sto parlando di San Paolo che tutti quanti ben conosciamo. Aquila è un ebreo nato nel Ponto, l'attuale Turchia, immigrato a Roma, conosce, si innamora e sposa una donna romana chiamata Priscilla. Abbiamo pochissimi dati purtroppo a disposizione per poter tracciare un profilo biografico degno di essere chiamato tale ma attraverso alcune fonti riusciamo a ricostruire alcuni tratti caratteristici della vita di questi santi che come dicevamo prima sono vissuti nei primissimi secoli del cristianesimo. Ecco, insieme abbiano una fabbrica di tende ci dice il martirologio e insieme si convertono al cristianesimo. Tuttavia a Roma non possono rimanere a lungo perché l'editto promulgato dall'imperatore Claudio nel 49 prevede l'espulsione di tutti i giudei accusati di fomentare tumulti. Ecco che allora si trasferiscono a Corinto che nell'epoca antica era una città cosmopolita una metropoli potremmo dire con il linguaggio di oggi dove il culto di Afrodite davvero è fiorente. Qui incontrano Paolo San Paolo appunto lo ospitano in casa e lo fanno lavorare con loro perché possa provvedere al necessario per la sua vita senza essere di peso a nessuno. Ecco Paolo sceglie come luogo di culto e di predicazione l'abitazione del proselita tizio giusto ubicata vicino a quella appunto di Aquila e di Priscilla. Questa amicizia dunque non si interrompe neanche quando l'apostolo delle genti decide di fare ritorno in Siria. I due sposi lo accompagnano salvo poi fermarsi ad Efeso ed è qui che si ritroveranno ancora Aquila Priscilla e Paolo che vi fonda una chiesa una comunità molto importante invece Aquila e Priscilla che mai hanno abbandonato l'attività commerciale come dicevamo prima erano fabbricatori di tende lo aiutano nella formazione dei nuovi convertiti in maniera particolare curano l'iniziazione cristiana di Apollo che è un giudeo molto edificato dalla loro testimonianza tanto che si appassiona allo studio delle sacre scritture ed è affascinato dalla loro catechesi dalla loro testimonianza di vita ecco che dunque la casa di questi due sposi diventa una testimonianza dell'amore che è scritto nel Vangelo e che tutti ben conosciamo c'è stato i divieti promulgati dall'imperatore Claudio nell'anno 49 come dicevamo i due coniugi tornano a Roma testimoniando il risorto anche se poi la storia potremmo dire per certi versi si interrompe perché non conosciamo la causa e la ragione della morte dei due coniugi qualcuno dice che siano morti martiri altri meno insomma Aquila e Priscila sono due santi che hanno come dire edificato con la loro vita le prime fondamenta delle comunità cristiane a tal proposito voglio ricordarvi che Papa Francesco ha tenuto una catechesi molto importante su queste due figure nel corso dell'anno dedicato appunto nel ciclo di catechesi dedicate agli atti degli apostoli qualora voleste potete andare tranquillamente sul sito vatican.va e ricercare la catechesi del Papa su questi due importanti santi che oggi il calendario propone alla nostra attenzione ma dal sacro passiamo al profano perché come ogni giorno vogliamo come dire ripercorrere il calendario della storia la storia ci viene in soccorso e quest'oggi ci sono degli avvenimenti molto molto importanti perché vogliamo parlare e partire dal 1978 quello che è stato definito l'anno dei tre papi anche l'anno dell'elezione del presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini che viene eletto settimo presidente della repubblica dalle camere riunite dai delegati regionali al sedicesimo scrutinio un'elezione molto molto travagliata con 832 voti su 995 ma per venire anche ai temi come diceva Anna Maria nel primo collegamento legati ovviamente alla notizia che tiene Banco in questi giorni la finale Italia Inghilterra dell'europeo che si giocherà sotto l'arco di Wembley come ci insegnano i bravi giornalisti sportivi noi vogliamo tornare all'8 luglio del 1982 quando l'indimenticato e indimenticabile Paolo Rossi con una doppietta stende la Polonia e consente all'Italia di andare in finale e di poi vincere quello che è stato il terzo titolo mondiale Italia Polonia si affrontano i più anziani lo ricorderanno io personalmente non ero ancora nato si affrontano in una gara affascinante molto importante Paolo Rossi con una doppietta davvero aspezzato i sogni di gloria dei polacchi che mai prima fin da ora avevano raggiunto un traguardo così prestigioso e importante quale la semifinale di un mondiale ma ciò che colpisce di quella gara è stato e potete ritrovare tranquillamente tutti gli highlight sulle piattaforme social ne sono pieni è stata davvero la bravura dell'intera squadra italiana che ha consentito con un'intensità davvero molto molto importante di conquistare la meritata finale voglio ricordare la formazione Zoffo Reali Bergomi Scirea Colovati Cabrini Tardelli Antonioni Graziani e Pablito Rossi che con la sua doppietta ci ha portato in finale ma per arrivare ancora un po' più vicini ai giorni nostri Dacia Maraini nel 1999 vince il premio strega con la raccolta di racconti intitolata Buio e questa mattina vogliamo riproporvi l'intervista uno stralcio dell'intervista che la nostra Maria Pia ha svolto con Dacia Maraini nel corso del programma addio piacendo il programma contenitore della nostra emittente e ci ha detto delle cose molto molto importanti che oggi vi riproponiamo Possiamo parlare un po' anche delle sorgenti della sua vena creativa della sua voce guardando indietro appunto ai tanti riconoscimenti ai premi ma anche semplicemente alla diffusione in tutto il mondo delle sue opere lei del resto è la scrittrice vivente più famosa al mondo per quel che riguarda il nostro paese che cosa vorrebbe maggiormente conservare nonostante tutto Ma io credo che noi abbiamo una italianità che non è la bandiera e non è nemmeno il calcio però credo che noi abbiamo un carattere una disposizione verso il mondo che non dobbiamo perdere che fondamentalmente è positiva e credo che con questa disposizione abbiamo fatto delle grandi cose adesso non io ma in generale diciamo il nostro paese ha fatto delle bellissime cose nel campo dell'arte della musica della pittura della filosofia e dobbiamo essere orgogliosi di questo e anche oggi abbiamo fatto delle cose grandi contro per esempio contro la mafia abbiamo fatto delle cose importanti nel cinema nel teatro abbiamo fatto delle cose importanti nel campo della religione proprio ieri stavo parlando con una suora che io conosco che mi è molto cara si chiama Sorrita Giarretta e che raccoglie le ragazze che sono portate con l'inganno in Italia che sono costrette a farle prostitute quando sono incinta le costringono ad abortire lei le accoglie le aiutano le aiutano a trovare un lavoro io credo che ecco credo che il nostro paese è molto meglio di quello che si racconta e quindi vale la pena di esaltare e di dare come modelli certe cose che si fanno nel nostro paese non sempre solo denigrarlo esaltiamolo il nostro paese vogliamo bene alla nostra bella Italia la scrittrice Dacia Maraini parlava di una disposizione verso il mondo dell'Italia e degli italiani io vorrei cogliere la palla al balzo per parlarvi di un'altra figura questa volta ritorniamo nell'ambito del sacro perché ieri si ricordava la canonizzazione di una grande donna italiana poco conosciuta purtroppo ma che davvero con il suo esempio di vita ha portato ecco quell'orgoglio italiano al di là dell'oceano in maniera particolare negli Stati Uniti d'America sto parlando di madre Cabrini che è stata canonizzata 75 anni fa da Papa Pio XII immagine della donna forte conquistatrice con passi arditi ed eroici del mondo attraverso il corso della sua vita mortale ed ora esaltata ai fasti della gloria dei santi qua giù così Papa Pio XII la definiva Santa Francesca Saverio Cabrini diceva una figura purtroppo poco conosciuta ma che davvero ha portato il Vangelo nelle situazioni più critiche più disperate di quei soborghi delle città degli Stati Uniti d'America che accoglievano e ospitavano i tanti emigrati italiani in fuga dalla fame e dalla guerra ecco il mondo stava ancora respirando dal sollievo della fine della seconda guerra mondiale quando questa suora così è stata definita dallo sguardo profetico dalla profonda carità e dal piglio autonomo e modernissimo si mise a servizio degli ultimi qualcuno ha parlato davvero di uno spirito quasi imprenditoriale ecco Papa Pio XII diceva noi la vediamo sorgere come una stella da un umile paese lombardo elevarsi nella sua luce e varcare gli oceani spargendo per ogni dove il calore dei suoi raggi e suscitando intorno a sé la meraviglia dei popoli ecco per un caso del destino magari per provvidenza potremmo anche dire questo umile paese lombardo era proprio codogno lo ricorderete tutti quello che la cronaca giornalistica ha definito come l'epicentro come una delle prime città che ha sperimentato la violenza del covid-19 del coronavirus che ancora oggi stiamo patendo ecco lei era una giovanissima maestra sognava di partire missionaria per la cina ma leone tredicesimo il papa della rerum novarum la invitò a salpare verso occidente come dicevamo verso gli stati uniti d'america e davanti alle colonie degli emigrati italiani si è adoperata per educare le piccole generazioni che lì vi crescevano e che hanno poi fatto grande anche questo paese che davvero è diventata la più grande potenza mondiale dunque una vita spesa per l'educazione una vita spesa per l'Italia a proposito di stile patriottico che la grande Dacia Maraini ci ricordava in questa intervista mi è piaciuto ricordare questa figura che invito tutti ad approfondire e a conoscere meglio 30 secondi di pausa poi ritorniamo ancora qui in diretta e ci ricollegheremo con il Tempio di San Pio da Pietrelcina per ascoltare le storie della nostra Anna Maria Salvemini restate con noi come promesso 30 secondi giusto il tempo di bere un goccio d'acqua perché il caldo si fa sentire anche nei nostri studi e mi ricollego subito con Anna Maria dalla chiesa di San Pio a te Anna la linea tutta tua eccoci qua scusaci è il bello della diretta ho già l'ospite qui pronta anzi le ospiti intanto vi anticipo introduco così questo argomento questo spazio pedaleranno tra i sentieri e le strade alla ricerca di un dono che sia un sorriso una preghiera o un messaggio a parole che urli speranza coraggio e amore protagonisti lo dicevamo biciclette pedali sui pedali del cuore e delle donne allora io do il benvenuto a loro Antonella Scarano alla mia destra e Maria Lucia Ippolito alla mia sinistra Maria Lucia la conoscete già questo che state vedendo adesso in diretta è già l'anticipazione dell'evento di cui vogliamo parlare di questa iniziativa Maria Lucia vi dicevo la conoscete già mamma di Matteo l'abbiamo avuta già qui presidente dell'associazione il Cireneo Onlus ed è una delle associazioni che partecipano a questa idea idea di Antonella Scarano allora partiamo dall'inizio perché sui pedali del cuore è il titolo il tema si andrà in bicicletta a partire dal 12 luglio si faranno diverse tappe qui sul Gargano il paesaggio merita però c'è uno scopo molto molto più grande Antonella come è nata questa iniziativa e soprattutto cosa è successo ad una tua cara amica lo scopo è quello di dare conforto ad una mia cara amica che si chiama Carmela che in questo momento sta vivendo un periodo di grandi difficoltà per tanti problemi familiari e personali lei ha avuto un grosso intervento demolitivo praticamente l'è stata asportata la gamba e parte dell'anca ma prima di tutto ciò lei ha avuto la perdita tragica di un fratello nel giro di pochi mesi la perdita della mamma una settimana prima dell'intervento e di lì tanti problemi che sicuramente non le hanno permesso di affrontare poi l'intervento e tutto quello che seguirà perché la sua vita cambia tutto quello che seguirà con serenità allora quando ho saputo che l'intervento è andato bene perché il marito Gianni mi ha detto guarda dal punto di vista chirurgico è tutto ok ora bisognerà darle coraggio prima c'era la mamma ora chi le darà questo coraggio noi siamo una bella famiglia c'è loro il papà c'è il marito di Carmela e due splendidi ragazzi però certo c'è bisogno ancora di darle conforto e io le ho detto Gianni guarda che lei si riprenda fisicamente perché a darle conforto ci siamo noi gli amici le amiche lei è una mia amica dico di infanzia dell'adolescenza quella che al di fuori delle formalità non è che ci si vede sempre non è che ci si sente sempre però c'è quella linea continua che ci ha sempre unite per cui a me piace andare in bici a me piace pedalare ho detto io farò un percorso a tappe incontrerò tanta gente non sono una professionista assolutamente lo scopo non è tanto quello di andare in bici quanto quello di andare tra i paesi del Gargano ad incontrare tanta gente che per un vissuto particolare che per una predisposizione una sensibilità particolare ha un messaggio da dare a Carmela tutto qua ed è tanto anche perché ci sono tante persone che vivono situazioni difficili nel vostro comunicato dite anche la vita è bella va vissuta anche quando è difficile e quando a volte risulta impossibile viverla allora io chiedo a Maria Lucia che di questo se ne intende perché ne vede tante chi è che dà la forza cos'è che dà la forza o dove si trova la forza per superare queste difficoltà io penso che il primo la prima cosa importante è la condivisione che sia proprio la condivisione quando Padre Pio diceva di essere il cireneo dell'umanità e di prendere sulle proprie spalle la sofferenza del mondo lo diceva sia per quanto riguarda le sofferenze fisiche che per quelle spirituali quando una persona vive la grossa la grossa esperienza del dolore sicuramente la deve vivere in prima persona ma sapere di poter avere accanto di poter spalmare questa emozione così forte anche il dolore fisico raccontando alle persone che sono accanto questo dà forza dà energia e io credo che sia un po' come dire la mission del cireneo stare accanto agli altri certamente non è che possiamo prendere su di noi la sofferenza fisica ma dire come sta facendo Antonella attraverso l'organizzazione di questa pedalata dire noi ci siamo noi vi vogliamo bene non vi lasciamo soli io penso che in una società in cui ogni giorno di più ci accorgiamo di essere soli dare un messaggio di condivisione come chiede Papa Francesco di accoglienza non c'è preghiera più bella più grande più importante secondo me dell'accoglienza cioè diventare preghiera accogliendo l'altro ed è sempre profonda Maria Lucia io ad Antonella chiedo come si fa a partecipare se possono farlo tutti la bicicletta poi insomma è un mezzo che dimostra quanta fatica c'è nel pedalare dove si vuole arrivare ci sono dei traguardi da raggiungere con molta fatica ed è forse uno degli sport più faticosi invitiamo questo è il volantino la locandina il biglietto chiamalo tu sì questa è la locandina non sarebbe stato possibile organizzare tutto ciò se non ne avessi parlato con Maria Lucia perché il Cireneo aiuta Gesù a portare la sua croce in qualche modo dobbiamo aiutare il prossimo i nostri amici e le persone care a portare la propria croce ma accanto al Cireneo ci sono tutte queste altre realtà presenti sul territorio e sono state proprio loro ad organizzare gli incontri che farò nei vari paesi del Gargano c'è la SD che ha dato un forte contributo così come l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e il gruppo Scout tutti impegnati nel sociale e tutti con un obiettivo mirato che va ad associarsi per la buona riuscita di questa iniziativa non c'è una raccolta fondi quindi se qualcuno vuole contribuire può fare con me dei tratti dei percorsi ecco cominciamo lunedì 12 luglio la prima tappa è San Marco in Lamis poi la tua città sì parto da San Marco in Lamis arriverò qui a San Giovanni incontrerò delle persone speciali incontrerò la famiglia di Rocca Ugelli il fratello sì la fidanzata andrò a prima San Matteo San Giovanni Manfredonia ci sarà un gruppo Scout che animerà un momento particolare dedicato a Carmela e poi andrò a mattinata mi fermerò lì per questo tutto in un giorno questo è il primo giorno poi ci fermiamo due giorni e poi si riprende per Monte San D'Angelo e via di seguito Foresta Umbra Vieste Peschici fino a Torre Mineto Marina di Lesina e ritorno San Nicandro San Marco in Lamis ascolta Antonella per strada durante il tragitto se qualcuno vuole unirsi a te può farlo tranquillamente assolutamente sì non sono una grande pedalatrice ho associato la fatica della salita alla sofferenza che magari posso assimilare a quella di Carmela e di tante persone che soffrono e questo è l'obiettivo per cui chiunque se non ho la portata di tutti chiunque vorrà fare con me un tratto può mettersi in contatto sono sui social c'è sui pedali del cuore e potremo fare insieme un tratto io ne sarei davvero felice e si sente Maria Lucia tu prima parlavi del farsi prossimi agli altri a chi ha bisogno in effetti qualcuno diceva non bisogna accontentarsi di vivere o di sopravvivere ma di vivere con vivere assieme agli altri per gli altri sui pedali del cuore a volte la bicicletta si mostra anche in tandem quindi insieme si pedala più facilmente e si arriva in cima la bicicletta è un simbolo molto forte di fatica di cammino di ripeto la parola di condivisione tu hai parlato di tandem si la nostra vita deve essere un tandem non solo nella famiglia ma fuori dalla famiglia perché quando uno non ce la fa c'è l'altro ripeto quello che dicevo prima viviamo momenti di grandissima solitudine leggiamo ascoltiamo notizie terribili nefaste perché c'è tanta tanta solitudine se riusciamo con queste idee con tante altre idee a dire alle persone che ci conoscono anche a chi non ci conosce guardate basta poco per condividere e non far sentire sola la persona che hai di fronte e a trovarle queste persone che ti sono accanto in qualsiasi momento è davvero una grande fortuna una grande grazia soprattutto io Antonella devo chiedertelo Carmela cosa dice di tutto questo Maria dico che in un primo momento temevo di violare in qualche modo la sua privacy di essere invadente in un problema che magari riguardava lei la sua famiglia il suo percorso di dolore e di essere frivola nel voler associare questo ad una pedalata in bici invece Carmela ne è stata contenta e mi ha detto che nei momenti di paura questo sapere che tanta gente in questo momento si raccoglie in preghiera o comunque ha un pensiero per lei l'aiuta bello allora noi abbracciamo Carmela da questa parte della telecamera incontrerà tanti abbracci le arriveranno si immagina tanti abbracci tante parole di conforto di coraggio di forza queste servono principalmente allora la prima tappa è San Marco in Lamis San Giovanni Rotondo Manfredonia Mattinata Monte Sant'Angelo Foresta Umbra Vieste Peschici Rodi Garganico Torre Mileto Marina di Lesina San Nicandro Garganico San Marco in Lamis e poi il ritorno a partire dal 12 luglio quindi c'è Antonella sulla bicicletta sui pedali del cuore noi riportiamo una frase di Ivan Basso che poi ho tratto dal vostro comunicato insegna la bicicletta cos'è la fatica cosa significa salire e scendere non solo dalle montagne ma anche nelle fortune e nei dispiaceri insegna a vivere anche perché il ciclismo insomma è un lungo viaggio la ricerca di se stessi ed è pedalando magari che ci si ritrova assolutamente io vedo qui questo che abbiamo mostrato prima sui pedali del cuore lo potete trovare anche navigando su internet e poi una maglietta quella che indossi tu praticamente la maglietta il logo è stato creato da un grafico Francesco Paolo Maria Giuliani che mi ha fatto questo dono così come anche le magliette sono state donate dall'ASD di San Marco e tutti quanti stanno dando un grande contributo questa è per te grazie grazie mille proverò a pedalare anch'io Maria Lucia grazie a te anche con l'associazione Il Cireneo insomma ti dimostri quello che sei poi in natura il disegno di Dio era chiaro fissin dall'inizio per noi magari era solo una bozza ma lui lo vedeva chiaro è vero io sono convinta che la nostra mission ci accompagnerà tutta la vita perché io ho mio figlio che è un dono immenso voglio donare agli altri grazie a te per quello che fai grazie a te anche Antonella per questa bella idea allora sui pedali del cuore a partire dal 12 luglio Leonardo io ti restituisco la linea grazie grazie Anna Maria un caro saluto alle tue ospiti questa bella iniziativa che facciamo nostra e che attraverso ovviamente la nostra emittente vogliamo rilanciare in tutta Italia perché la solidarietà come ci insegnano non va mai in vacanza specialmente d'estate l'estate poi è anche un periodo in cui purtroppo tante persone sono costrette a casa a causa appunto della solitudine della malattia e il nostro sforzo è quello di non far andare in vacanza anche tutto ciò che negli altri mesi dell'anno può apparire ordinario e scontato il Gargano Anna Maria lo hai anche accennato tu è davvero un luogo straordinario il cuore delle persone del Gargano è davvero infinito nonostante ci definisca qualcuno gente di montagna ecco ci piace davvero essere aperti nei confronti di tutte queste iniziative che davvero dimostrano il cuore della nostra gente perdonatemi questa piccola parentesi campanilistica non so se sei d'accordo Anna Maria con questa sì sì come no sono d'accordo ma dobbiamo portarlo avanti noi anche il nome del nostro territorio il nostro Gargano che è bellissimo da visitare e da scoprire tra l'altro oggi a proposito di informazioni della giornata a parte il caldo che si fa sentire in questa giornata se guardate il cielo questa sera vedrete la luna calante che cosa significa insomma le nonne lo raccontano è la giornata adatta per dare un taglio ai capelli così ricrescono più forti più lunghi di cominciare una dieta quindi con un'alimentazione sana di fare sport di cambiare vita di eliminare le cattive abitudini di tenere lontane noi non lo diciamo perché siamo cristiani comunque di cercare di convertire la gente un po' negativa che abbiamo accanto approfittate di questa giornata lo dicevano le nostre nonne quindi le tradizioni non sbagliano mai Leonardo poi insomma dal Gargano si vede bene la luna certo Anna Maria io allora voglio mi perdonerai se cambio radicalmente argomento perché dal Gargano voglio partire per una ricetta che tu ci hai proposto dal paese di Carpino se non vado errato la ricetta tipica del paese di Carpino che è una piccolissima città a una trentina di chilometri da dove stiamo trasmettendo da San Giovanni Rotondo e vista l'ora ecco mi pare anche un po' opportuno far vedere ai nostri amici di cosa stiamo parlando la regia partiamo col contributo grazie Anna Maria ci vediamo dopo ti restituo la linea grazie la fava definita carne dei poveri è stata per lungo tempo una delle fonti alternative di proteine per le popolazioni che vivevano di quello che i campi riuscivano a produrre in un'antica leggenda è protagonista della fuga della sacra famiglia la Madonna San Giuseppe e il bambino stavano scappando in Egitto per sfuggire ai soldati di Erode e le fave con i loro lunghi steli nascosero i tre fuggitivi dai soldati che li avevano quasi raggiunti se avessimo assistito nell'antica Roma alle feste dedicate alla Dea Flora protettrice della natura che germoglia ci saremmo ritrovati sotto una cascata di fave i romani infatti le gettavano sulla folla in segno di buon augurio ma a festeggiamenti conclusi questo legume tornava a essere ritenuto impuro il sacerdote di Giove non poteva toccarle mentre al pontefice Massimo era addirittura vietato nominarle invece nell'antica Grecia una consuetudine vedeva usare le fave nei riti religiosi come cibo per i defunti e Pitagora riteneva addirittura che dentro i semi si celassero le anime dei defunti la loro comparsa sui banchi del mercato coincide con l'arrivo della primavera e la sua vetrina principale consiste in quella tradizione romana che la vuole al fianco del pecorino nei picnic e nelle gite fuor porta oggi prepareremo il tipico piatto di carpino fava e cicorie la fava essiccata la teniamo in ammollo per almeno 24 ore viene privata della parte superiore quindi il nasello e viene cotta in acqua salata per almeno 3 o 4 ore soltanto la fava? la fava con l'allora fresco e qualche picchio di aglio perfetto tempo di cottura? 3 o 4 ore 3 o 4 ore sì dopodiché noi vedremo a tavola il piatto già pronto sarà accompagnato dalle cicorie sì a fine cottura viene amalgamato poi con la zuppa viene amalgamata poi con le cicorie e questa cipolla? in alternativa alle cicorie si può aggiungere la cipolla con un pizzico di origano fantastico buonissimo questo piatto poi c'è e non può mancare l'olio di carpino perché non è soltanto la fava tipica e famosa di carpino è anche l'olio di carpino extravergine di oliva questa in particolare è della vostra azienda quindi prodotto da voi e non perdetevi le fave e non perdetevi iscrivete